Sono entrata nel cosa oggi, eh? E' appena finito delle dicate. Quante femmine sono, frate? Alzate le mie mani! Ma ho detto che a 50 anni siamo vecchie, ma è vero? Siamo ammazzati! Allora tu ritieni, figlia mia bella, siamo giovinotti o no? Ci sentiamo? Ci vedete le occhi? Noi siamo giovinotti? Ma era chiaro di che noi ci sentiamo giovinotti ancora, ma le cose cambiano, no? Vi ne siete resi conto quando vi alzete alla mattina? E allora che facciamo? Noi ci dovremmo inventare tutte perché andassavo i chiari a questi 50 anni, no? Io no. Qual è la prima cosa che ci siamo inventati? Non facete finta di non sapere, tanto siete tutte tinte in capo, se no siete tutte tinte in capo, eh? Ci siamo inventati la tinta per coprire i capelli bianchi? I reggiseni a palconcini? Ci siamo inventati, nini? Se ci ne siamo capaci di farci arrivare sul testo, ok? Ci può essere noi, però non veniamo a casa e ci levo due petalini? Uno legge, uno bello. No, maschietti, non ridete mica, nella vita che c'è pure per voi, se non ci cala dei zini, non ci cala dei palle. E io ho anche io, se ne faccio di farci. Ah! Alcune che non si pose qui, una madre di famiglia, non sta la moda del momento. Ma la madre di famiglia, sta la moda del momento, è una cosa qui. Perché? Voi ne rendete conto, vedete mezza la via che cammina, un ritte, cos'era ciuzza corte, e 40 centimetri di ogna. Avete mai viste? No. Che io mi faccio sempre portavoce, perché tanto la domanda che mi sono fatta io, le avete fatte tutte. Ti ridono, eh? Ti ero in gialoglia, tu, eh? Sì, la domanda che mi sono fatta io, la siete fatte tutte. Ma io me vengo a fare sempre portavoce, perché io vengo sempre alla faccia da schiappi, come si dice. E allora io, perché sai, io ho fermato la domanda, e io ho fatto. Ma che se la sonica, come sarà? No, ma lo sappiamo tutti come se fanno un video, o no? Sai che te risponde? Nuna di essere fa, sai, gira, che faccio io? Perché noi non usiamo le unghie, usiamo i colpastretti. Cioè, sì, ma quando ne piccini l'acqua, la schiari tutta, però non usi. A chi viene a liceo, no, sì. Però ma quanto non volevo fare? E vorrei... che viene a liceo, che viene a liceo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.